Buona giornata, ben trovati, ultimo appuntamento della settimana, quello del venerdì, come di consuetudine naturalmente grande spazio agli avvenimenti che ci terranno compagnia a livello sportivo nel prossimo weekend. Vi ricordo www.venetoglobe.com, la nostra web tv che trasmette per voi e vi prepara, vi consegna poi in modo da poter usufruire in qualsiasi momento i nostri servizi, le nostre interviste, i nostri reportage. Mentre per chi ama la diretta o quantomeno per chi ama il digitale terrestre, ci trovate sul canale 95 di Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia, ogni sera intorno alle 19.40, in seconda serata e poi nella prima parte della mattinata. Andiamo ad iniziare parlando di cicli, parlando di, parliamo poi di ciclismo per questo che abbiamo sbagliato, parlando di nuoto nei mondiali in Corea, Paltrinieri porta l'argento alla staffetta mista della 5 km e ora cercherà l'oro nei 1.500. Il 7 rosa per quanto riguarda la pallanuoto femminile vola ai quarti dopo aver battuto 14 a 6 la Cina, ora affronterà la vincente tra Ungheria e Nuova Zelanda. Impresa nel tennis ad Umago, si sta giocando il Plavalaguna torneo internazionale, il nostro Caruso che vedete ha eliminato Coric numero 14 del tabellone ma molto alto nel ranking mondiale. Nei quarti del torneo c'è anche un altro italiano, Travaglia, che dovrà affrontare adesso l'ungherese Balasch. Nella pallavolo under 20 femminile, l'Italia chiude il girone con la Russia perdendo 3 a 2, ma è una sconfitta indolore per le azzurre che raggiungono ugualmente la semifinale, la giocheranno contro la Turchia. Parliamo di calcio, adesso è di Coppa d'Africa, siamo arrivati alla finale, arriva il Senegal in finale dopo 17 anni e stasera alle 21 affronterà l'Algeria. Il calcio vive le fasi più importanti del calcio mercato, naturalmente in queste giornate, in queste settimane l'Inter è a Singapore per la campagna d'Asia come la soprannominata e come la chiamata Conte, alla Juventus invece gli occhi sono tutti per il nuovo arrivato dell'It, al Milan si punta invece su Korea dell'Atletico Madrid, mentre in uscita ci potrebbe essere Cutrone che potrebbe scegliere di andare in Inghilterra al Wolverhampton. In campo oggi il Milan contro il Novara. Debutto stagionale anche della Roma in amichevole contro il Tor Sapienza, vinto per 12 a 0, altra amichevole altro calcio d'agosto, Torino batte Pro Patria 3 a 2. Lasciamo il calcio di serie A, passiamo a quello di serie B con il Pordenone del presidente Lovisa e del tecnico Trevigiano Tesser, vi ricordo che il Pordenone giocherà le sue partite di campionato a Udine, ritiro ad Arta Terme, il 27 poi rientro a Pordenone nel pomeriggio amichevole a Chions nel Friuli, 4 colpi per il Pordenone sul mercato, Camporese, Zanon, Berra, Chiaretti, si lavora anche per forte dell'Inter. L'amichevole risultata positiva, soprattutto bene in movimento gli attaccanti, 19 a 0 il risultato. L'Entella è a Sappada fino al 2 agosto, mentre il Cittadella andrà a Lavarone in Trentino da lunedì fino al 3 agosto. In serie C la Triestina dopo la presentazione esordirà il 21 contro la Lazio ad Auronzo. Avvia anche il Padova che si è ritrovata a Lappiani, prima amichevole domani contro una rappresentativa locale. Anche quest'anno il nostro campionato di rappresentanza sarà quello più rappresentativo per noi, quello di eccellenza. Seguiremo con interviste, servizi, telecronache per tutta la stagione. Stanno per cominciare, come vi dicevo in precedenza, anche i raduni delle squadre che più da vicino seguiamo. Comunque vedo anche ultimi arrivi in casa Montebelluna e qui siamo in serie D. Montebelluna guidata dal tecnico Bodo, arriva a caso un ex professionista. Passiamo al Giorgione dove si accasa Saccaieva, mentre Alessandro Cattellan, pezzo pregiato tra gli attaccanti, si è accordato con il Conegliano di Vanni Moscon. A Treviso invece arrivano Barattin, Zambon e Strippoli nel rafforzamento della squadra di promozione del nuovo Treviso. I primi raduni, vi dicevo, cominceranno con la Liventina nella giornata di domani a Motta di Livenza, al Samassa e poi ritiro in montagna per la formazione di Motta. Lasciamo il calcio e passiamo alla basket, ricordandovi che è arrivato e confermato questo primo acquisto della TVB De Longhi, si chiama Jordan Parks, che vedete, qui lo scorso anno ha giocato con l'Orlandina, fino all'ultima partita ha cercato di rompere le uova nel paniere alla TVB, cercando la promozione per la sua squadra. Non c'è riuscito e allora viene a giocare con la TVB. TVB che adesso ha la caccia di un play titolare per sistemare ulteriormente la sua squadra. Novità non ce ne sono da Ponzano nel femminile, dove due sono per il momento le giocatrici accasate nuovamente, sono Brotto e Zekin, oltre al tecnico Campagnolo. In serie B maschile la Rooker ha casato in queste ore, ma si aspetta l'ufficialità della società, c'è stato soltanto il lancio su Facebook di un giocatore del Montenegro che viene a rafforzare un giovane, che viene a rafforzare il roster della formazione della Rooker. Per il pallavolo, Limoco, ecco qui siamo pronti ad una grande annata, dice il cartellone pubblicitario che rammenta che bisogna abbonarsi ed è stato subito gran successo per i primi abbonati, oltre 150 soltanto nel primo giorno. Vi ricordo che c'è stato anche l'invito dalla Federazione Mondiale al Mondiale di Shao Sing che si disputerà dal 3 all'8 dicembre prossimo. Novità nella A3 di pallavolo maschile, si chiamerà proprio A3 per Motta di Livenza che ha conquistato questa categoria. Si troverà nel Girone insieme alle altre Venete che sono Porto Viro, Sandona di Piave e Veneto Friulana, Prata di Pordenone. Noi gli occhi li daremo anche con occhio, scusate la ripetizione, interessato al campionato del Pro 14 del Benetton Treviso. I Leoni si sono ritrovati questa settimana alla Ghirada per il via ufficiale, mancheranno al via gli Azzurri che si stanno allenando sul campo numero 3 della Ghirada dove da lunedì, da martedì, anzi arriverà anche l'Inghilterra. Andiamo a sentire uno dei nuovi, lo avevamo già fatto una quindicina di giorni fa, lo risentiamo, lui si chiama Charlie Trussardi. Siamo con Charlie Trussardi, è appena finito l'allenamento del Benetton, ci eravamo sentiti proprio ad inizio quando eri appena arrivato, adesso sono passati un po' di giorni, quali le sensazioni Charlie? Sono buoni, tanti buoni, abbiamo avuto un po' di vacanze, siamo tornati due o tre giorni fa e poi niente, non so, buone buone sensazioni. Devo ancora prendere un po' di tempo per mostrare tutto ma sì, sì, inizio a sentirmi bene, a prendere un po' di fiducia, di piacere nel gioco, anche adesso. Che campionato sarà? Hai sentito, la prima giornata l'avrete contro il Leicester, campioni in carica. Ho visto, no, ma sappiamo già che sarà difficilissimo, ma secondo me, visto l'anno scorso, possiamo essere a livello contro ognuna squadra, non abbiamo paura di nessuno, credo, quest'anno. Sì, non ero l'anno scorso, ma secondo me c'è un molto bello gruppo, manca ancora quelli da nazionale, però il gruppo è già, mi sembra bello, poi non conosco e forse non capisco ancora tutto, ma sì. Sì, sì, c'è un altissimo livello, hanno iniziato tanto più presto, sono già molto più pronti, giocano tanto di più di noi che abbiamo appena iniziato, ma ho tanto fretta ad iniziare con tutta la squadra entiera, con quelli da nazionale, tutti. Questo è il mediano di mischia del Benetton, un acquisto interessante, quello di Charlie Trussardi, come lui diceva, al più presto voglio cominciare a giocare anche con i nazionali che ritorneranno dopo i mondiali e come vi dicevo in precedenza alla Ghirada, ieri siamo andati in esterna proprio per parlare proprio della Ghirada che ospiterà l'Inghilterra in due fasi di preparazione, dal 22 luglio al 2 agosto e poi dal 28 agosto al 5 settembre, in pratica fino al giorno prima dell'amichevole proprio tra Inghilterra ed Italia che si giocherà a Newcastle. Andiamo a parlare di ciclismo perché l'altra sera a Pordenone, noi eravamo presenti in sala consigliare, vi abbiamo già fatto ascoltare le dichiarazioni del Presidente della Regione del Friuli Venezia Giulia, ora tocca al Sindaco di Pordenone che ha inquadrato benissimo questa tre sere di Pordenone stesso. Tre sere di Pordenone arriva al diciottesimo anno di età. Io l'ho visto crescere, l'ho visto i robustissi ed è una delle manifestazioni più importanti del cartellone sportivo del nostro territorio. L'abbiamo visto crescere con piacere perché anno dopo anno si sono aggregati sponsor, istituzioni, diventa sempre più prestigioso per la presenza di atleti di grandissima fama, unisce quella che è la tradizione ciclistica di questo territorio legata ai ragazzi, alle grandi manifestazioni sportive e ai grandi eventi con ricadute positive nel nostro territorio. Il nostro compito come istituzione è contenerlo a supportarlo, sia per quello che ho però detto, cioè per le evidenti ricadute, ma anche perché avere il Bottecchia, quindi in nome di un grande ciclismo legato alle tante società sportive che operano in questo territorio è anche un obbligo morale da parte della politica degli amministratori. Sindaco, Pordenone è la provincia più che mai importante, Pordenone in serie B, adesso questo Bottecchia che resta a disposizione proprio per il ciclismo. le hanno suggerito di non farsi, diciamo tra virgolette, fregare da Villorba per il prossimo velodromo. Guardi, ci lega un rapporto, ormai lo posso dire, di grande amicizia con tutti gli operatori del ciclismo di questo territorio, non fosse altro che con grande dedizione, con grande passione, che non sono parole retoriche, ma solo realtà, mettendo mano al portafoglio, spremendosi fino allo sfinimento, garantiscono a tantissimi ragazzi di poter continuare ad andare in bicicletta. si chiama Velodromo Bottecchia, non si chiama Stadio Bottecchia in origine, il Pordenone ha fatto il salto di qualità, di questo siamo contentissimi ed è un'altra grande sfida. Oggi lo restituiremo al ciclismo, sia per quanto riguarda la pista, sia per quanto riguarda le pertinenze, perché? Perché c'è un mondo che può crescere, abbiamo un rino decandido che non ha bisogno di presentazione nel mondo del ciclismo, è stato tecnico della nazionale. Abbiamo tantissimi operatori e società che ancora asservative attraggono tanti ragazzi. Possiamo calamitare dal Veneto grazie anche ad un'offerta di una città piccola ma effervescente, viva, ospitale e dinamica e quindi è evidente che il destino del Bottecchia è proprio quello di restare dedicato al ciclismo. Poi servirà la copertura? Un passo alla volta. Abbiamo preso in mano una città, stiamo intervenendo su tutti gli impianti sportivi, sulle scuole, sulle strade. Bisogna avere un po' di pazienza, mi pare che il destino ormai si è tracciato. L'ultima domanda, abbiamo sentito l'applauso, era per il GB Baronchelli. Qualcuno ha detto che non c'entra niente con la pista, ma è un grande, come ha sottolineato lei. No, non c'entra forse con la pista direttamente, ma in realtà c'entra col ciclismo al 100%, non fosse altro per l'emozione che si è regalato. Io mi ricordo le giornate estive sul divano a sentire le telecronache di De Zanga e quando scandiva Baronchelli e quindi ci è rimasto ovviamente nei cuori di noi ragazzi, che è un esempio, si dice anche in questo caso che talvolta si può scadere un po' nel romantico, non è vero. Sono quegli esempi degli atleti che con grande sacrificio di edizione hanno aggiunto grandi taguardi, ma sanno poi trasportare come se fosse un uniforme comportamentale questo stile, questa sobrietà, questa umiltà legata poi alla determinazione anche alla vita quotidiana. Sono dei modelli che dobbiamo portare soprattutto tra i più giovani. Questa è la presentazione delle tre serie di Pordenone, che poi sono quattro, perché era nata insomma per fare una sei giorni, poi si è ridotta. Bene, allora lasciamo Pordenone, saliamo in provincia di Belluno, saliamo a Cortina, per tutta la settimana ne abbiamo parlato, continuiamo a parlarne perché c'è un gran movimento, arriveranno le Olimpiadi, i campionati del mondo, ne stiamo parlando dettagliatamente con i nostri streaming anche attraverso il www.venetoglobe.com e allora andiamo a sentire il presidente del Bob Cortina. Siamo con Gianfranco Rezzadore, presidente del Bob Cortina, raggiante non solo per la buona riuscita di questi campionati italiani di spinta, ma soprattutto perché finalmente la vostra battaglia di riaprire la pista e di riportare il Bob a Cortina si è finalmente perfezionata. Sì, sono undici anni che combattiamo, nel senso che chiaramente sia per il movimento del Bob Club ma anche per il movimento nazionale era un'assurdità, era una pista chiusa. Il Bob Club Cortina ha continuato a lavorare, ci siamo dedicati anche ad altre discipline tipo il Parabob che per quanto sia una disciplina molto difficile con l'aiuto della federazione internazionale ci dà anche una mano economicamente perciò è una disciplina che abbiamo potuto sostenere a differenza delle altre che chiaramente mandare una squadra di Bob all'estero a allenarsi diventava veramente troppo oneroso e non avevamo le fonti per poter continuare a seguirli perciò abbiamo fatto dei reclutamenti, abbiamo lasciato i ragazzi nelle mani della squadra nazionale però come Bocle e Cortina chiaramente diventava difficile. Bisogna trovare un giusto compromesso perché la pista come era, se era adatta, anzi era un gioiello per il Bob non era proprio l'ideale per lo skeleton e per lo slittino perché le forze gravitazionali in curva sono molto impegnative sulla pista di Cortina perciò per queste due discipline era un po' difficile. Bisogna trovare il giusto compromesso fra la bellezza dell'attuale tracciato che rimarrà comunque più o meno simile anche se verrà rifatto completamente e la compatibilità delle tre discipline perché non si può pensare solo al Bob ma anzi bisogna pensare anche alle altre due discipline lo slittino e lo skeleton sono delle realtà molto forti soprattutto anche lo slittino perciò noi dobbiamo ovviamente trovare una giusta soluzione. E meno male, ci auguriamo che arrivi presto questa soluzione perché è incredibile che il Bob a Cortina fosse andato in disuso fosse andato proprio nel dimenticatoio totale con i grandi risultati ottenuti con il mitico Monti. Abbiamo concluso il nostro appuntamento sportivo della settimana ce li sentiamo lunedì, vi racconteremo il weekend.